Con l'approssimarsi della prossima festività di Halloween, la Guardia di Finanza del Comando di Salerno ha ulteriormente intensificato il dispositivo operativo di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale su tutto il territorio. Ed è proprio nell'ambito di questi controlli che le fiamme gialle della compagnia di Scafati, all'esito di specifiche attività ispettive eseguite in un noto esercizio commerciale dell'Agro Nucerino Sarnese, hanno sottoposto a sequestro più di 11.000 prodotti tra giocattoli e oggettistica di vario tipo, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. La merce, pronta per essere venduta proprio in occasione della festa di Halloween, è infatti risultata non rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo e alle direttive comunitarie relative alla commercializzazione di materiale privo degli standard di sicurezza, poiché è sprovvista delle informazioni identificative minime. Il titolare del punto vendita coinvolto, un cittadino di nazionalità asiatica, stabilmente residente a Sarno, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Salerno per l'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative che possono anche superare i 40.000 euro.